Buonasera, bentrovati a Entrata Libera, oggi parliamo un po' di politica, si muovono molte cose in vista delle provinciali d'autunno, c'è da scegliere il successore di Lorenzo Dell'Ai che non ha più potuto candidare per raggiunto limiti di mandati ed è andato in quello che lui chiama un esilio dorato a Roma e a Trentino si aprono praterie con considerato anche che con la coalizione di centrosinistra magari un po' litigioso al centrodestra pure ci sono ampi spazi nei quali si è infilato un politico di razza come Silvano Grisenti, benvenuto. Buonasera. Partiamo subito dalla vostra proposta politica, Progetto Trentino anche perché siete stati i primi a partire già la settimana scorsa, pronto il camper, si parte anche questa una mossa da politico. Ma è un'idea che è nata all'interno di questi gruppi di lavoro che abbiamo attivato da diverso tempo e devo dire che rappresenta una bellissima immagine che è la voglia di toccare tutti i luoghi del Trentino perché noi vogliamo veramente significare qualcosa di nuovo che è la capacità dei territori di essere protagonisti. Dove vi mettete politicamente? Questa è la domanda che si fanno tutti, insomma lei viene dalla Margherita, poi dall'UPT, però ci sono anche spazi nel centrodestra, dove ritenete di essere? Chi conosce la nostra storia anche personale sa benissimo dove siamo, io sono un popolare e quindi lì rimango fedele. Sono anche convinto però che oggi i problemi dei Trentini hanno bisogno di qualcosa di diverso, sono convinto che c'è la destra, c'è la sinistra e queste ci saranno sempre. Però noi oggi abbiamo bisogno di fare un passo in avanti e il progetto Trentino è proprio questo, si richiama alla responsabilità, la grande responsabilità che tutti i cittadini devono assumersi perché noi abbiamo l'obbligo di cambiare velocemente altrimenti non ci sarà storia per noi. Allora il sottoscritto può anche dire basta, insomma ho già dato, ho ricevuto tantissimo, però noi tutti abbiamo delle responsabilità innanzitutto rispetto ai figli nostri, quindi noi non possiamo tolgerci da questo. Il progetto Trentino è proprio questo, non guarda né a destra né a sinistra, guarda i problemi dei Trentini. Michela Biancofiore le ha aperto le porte, le piacerebbe allearsi con lei? Ma non è il mio sogno, ho altri sogni, devo dire onestamente nella mia vita. Viceversa la sua carriera politica è stata sempre molto legata a Della, era assessore quando lui era sindaco, siete andati in provincia insieme, ho letto da qualche parte lei ha detto non era un matrimonio. Ma io sono stato legato molto ad un'idea, non a Lorenzo Dell'Ai, questa è una grande semplificazione, anche se devo dire onestamente con Lorenzo Dell'Ai ho passato tanti dei miei anni in politica e devo dire altrettanto onestamente che è stata un'esperienza entusiasmante, non la disconosco. Io mi auguro che si possa ancora interagire per il bene del Trentino, però questo non dipende a Silvano Guisenti, dipende da Lorenzo Dell'Ai. Oggi lui ha un ruolo diverso e quindi è giusto e opportuno che noi tutti ci assumiamo le nostre responsabilità. Vorrà Lorenzo Dell'Ai a nome per conto dell'UPT essere qualcosa di diverso che non all'interno di questo centro-sinistra, insomma che lo vedo ormai vecchio, dipende da lui, dipende da loro, non dal sottoscritto. Lei ha cambiato sponda, diciamo, anche perché si è sentito un po' scaricato, sono tutte le difficoltà che ha avuto in questi anni? No, no, tutt'altro. Girando il Trentino perché non ho mai smesso, ho capito che così non si poteva andare avanti. La politica ha bisogno di interpretare, di dare risposte, quindi non solamente, insomma, di rispondere alle domande, di dare risposte, però se uno non ascolta non riuscirà mai a dare risposte più adeguate. E ascoltando la gente trentina, guardando dall'esterno, perché questi cinque anni, diciamo, anche di difficoltà personale mi hanno aiutato molto, mi hanno anche fatto capire che si può leggere la propria società in una maniera diversa. Chi non esercita potere è molto libero in questo. Devo dire che l'idea di Progetto Trentino è nata proprio da questa, dall'esigenza di rimettere in moto la nostra appartenenza, il nostro senso di responsabilità. Parlo di parole che il Trentino medio non ha bisogno di decantarle o di declinarle, ha bisogno solo di interpretarle. L'ha sempre fatto. Il Progetto Trentino è questo, noi siamo questo. Io non ho bisogno minimamente di guardarmi indietro, anche se la mia storia, insomma, ecco, non la rinnego per nulla. Lei diceva che interpreta il cambiamento, però c'è chi parla di lei anche come la vecchia politica. Come pensa di interpretarlo? Ma innanzitutto garantendo ad una nuova classe dirigente di essere protagonista, perché io non ho nessuna intenzione di occupare spazi, anche se fisicamente poi sono abbastanza ingombrante. Invece voglio garantire ad una nuova classe dirigente che il Trentino ha bisogno di appropriarsi delle speranze dei Trentini, di poter dire la propria, di poter dire, dare un messaggio di speranza. Questo sì, penso che possa farlo, possa contribuire a questo. C'è chi dice che sarà lei capolista, chi fa il nome di Roberto De Laurentiis, chi potrebbe essere qualcun altro? Beh, insomma, noi sappiamo che si vive nel mondo dell'informazione, quindi di conseguenza bisogna dire qualcosa. Se qualcuno guarda la mia storia politica, ho sempre chiesto di essere uno dei tanti, mai il primo. Oggi ho visto Tonini che ha detto una cosa bellissima, lui è una delle poche persone intelligenti in politica che noi oggi abbiamo, ha detto il futuro presidente della provincia deve essere un primo interpares. Silvano Grisenti è sempre stato questo all'interno, prima della democrazia cristiana, poi della Margherita e poi dell'Unione per il Trentino. Oggi lo è in progetto Trentino. Lei dice che il centro-sinistra è un po' allo sbando, è un po' in difficoltà. Perché? Non lo so, non mi riguarda. Il Trentino è cambiato? È cambiato tantissimo, si sente, il Trentino ha bisogno di risposte. Sono convinto che ormai il centro-sinistra abbia fatto il proprio tempo. Noi abbiamo bisogno di dare un messaggio diverso. L'idea dell'alternanza noi la praticheremo fino in fondo. Qualche tema concreto? Lei per esempio ha detto no alle comunità di Valle. Sì, perché sono state tradite nelle aspettative. Noi avevamo un'idea e ne è stata applicata un'altra. Se qualcuno si legge l'articolo 1 della legge istitutiva è qualcosa di esattamente il contrario di ciò che è stato fatto. Quindi è stato un grande tradimento. Noi oggi però dobbiamo anche constatare una cosa. Nel 2006, quando è stata approvata quella legge, eravamo in un secolo, in un'epoca, in un'era addirittura dico. Oggi siamo in un'altra era. Le nostre condizioni economiche sono altro. Noi dobbiamo semplificarci. Quando chiediamo alla gente di essere semplice, quando chiediamo alla gente di essere, insomma così, risparmiare e poi noi non lo facciamo, credo che diamo un cattivo esempio. Oggi le comunità di Valle non sono lo strumento più adeguato per rispondere al meglio. Ha un bisogno di semplicità, ha un bisogno anche di riduzione della spesa pubblica nella gestione delle nostre istituzioni. Un'ultima domanda, le chiedo molta sintesi. Ha parlato anche di denaro, perché alla fine chi gestisce la provincia decide. Da una parte ci sono grandi bisogni sociali, dall'altra c'è un'industria che ha bisogno di rinnovarsi e anche lì è con l'acqua alla gola. Dove bisogna guardare prima? Ma io sono convinto che la politica mondo a mondo è scelta. Noi saremo in grado di fare uno anche l'altro, perché nel Trentino ci sono queste possibilità. Bisogna avere il coraggio di fare scelte. Grazie Silvano Grisenti, giovedì prossimo sarete a Romagnano per parlare di agricoltura e città, poi Roveretto, Sicurezza, Cless Agricoltura, Tione Sanità, insomma Progetto Trentino, c'è anche un sito internet, basta andare a vedere, poi potete trovare le serate e venire a informarmi. Grazie di essere stato qua. Grazie veramente. E grazie a voi di averci seguito questa sera, domani è giovedì, ve lo ricordo si parla di orto.